In collaborazione con Glam Vision e Caffacli. L'alpinista Hervé Marmas sulla marmolada. Dobbiamo ammettere un fallimento enorme. Inascoltati i campanelli d'allarme della montagna. Accoltella l'amico mentre discutono. Paura a Mattarello. Un cinquantottenne è stato arrestato per tentato omicidio. Stritolati dagli affitti elevati e dalla crisi economica. La lenta agonia dei negozi del centro storico di Trento. Confesacenti, in molti si stanno arrendendo. Caffacli. Il 730 che spacca.